fine applicazione patch per francesco macchinetti ciao allora qua veramente siamo stile peaky blinders quando volete questa patch dite la patch peaky blinders e ve la fanno così quindi pronto del vostro patch test e scrivete patch peaky blinders e noi faremo questo col cantante mascherato ragazzi ciao a tutti quanti ciao i naviganti una cosa viene a vedere il trapianto 6.000 bulbi guardate guardate che bella quadratata di fuori 6.000 bulbi e 10.000 euro questo è il risultato ok per avere poi dovuto mettere il patch per essere contento quindi quando vi parlo di trapianto di capelli dai su su prontate il patch test per favore guarda che roba c'è più che da lui